E salve a tutti ragazzi da PierreDarkKnight91 e benvenuti nella terza puntata su Life is Strange Siamo nel cortile del dormitorio e dobbiamo riportare una chiavetta USB a Warren, Warren, Wirren, Wurren Come si chiama lui e che ci ha mandato anche dei messaggi ultimamente e ci ha chiesto di incontrarci Eccolo qui, questo è il bidello Samuel, buongiorno Samuel, vediamo Ehi la Samuel, ehi ciao, mamma mia, perché tutti questi volantini? Sembri impegnato? Sembri impegnato, sappiamo i volantini E poi si perniciano le finestre, ok, impegnato Cerca di non coprire i volantini di Rachel Quel raggio di sole Quindi la conoscevi? Conoscevi Rachel? Parla troppo bene di questa ragazza, sembra un pedofilo Cos'è successo? Cosa credi sia successo? Meglio non soffermarsi sul passato, Samuel guarda in avanti come un orologio Com'era? Doveva essere popolare Anche la luce del sole fa ombra Rachel faceva entrambe le cose, sai? Era come una batteria positiva e negativa A più tardi Samuel E attenda dove met... E attenda con la D Attenta dove metti i piedi Ok Perché sta spazzando e deve verniciare Guardate Quindi sta sistemando il bidello che vernicia la scuola Benissimo Qui ci... Eccola qui Eccola Parla Oh guarda chi c'è Max La... Dei selfie Quindi La bullizza La sta bullizzando Visto che sei tutto Ok Rimani in posa C'ho fatto Ok Victoria non si vuole spostare Quindi La nostra Max Non può Entrare nel dormitorio A dare la chiavetta A Warren 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 Ok Quindi Vattene Ok Tu mi hai detto che me ne devo andare Posso... Ok posso portare indietro il tempo Però Mi sa che... Vediamo Portiamo indietro il tempo Voglio vedere cosa succede Qui c'è una scala Guarda Non vuole Sabotare la scala Per Non fare un dispetto A Samuel Va bene Quindi come entriamo Nel dormitorio Qui Non si può salire Vediamo se Non possiamo parlare Ecco Samuel Che sale Nel frattempo Qui c'è L'irrigatore Ecco una porta Ok Vediamo cosa c'è Usa È un interruttore Però non vorrei Far male a Samuel Ecco infatti Eh Si è buggato il gioco Samuel è sparito Per un attimo Si sono attivati Gli irrigatori E hanno bagnato Victoria Questo l'abbiamo capito Però Samuel È sparito Completamente È rimasto solo Il pennello Va bene Ma non ci fa passare Lo stesso Questa Ok Quindi Quindi Mmm Ok Ok C'è quel secchio Ma co Ma co Ah ma sta attaccato Cosa dovrei fare Non ho capito ragazzi Cosa dovrei fare Torniamo indietro Fatemi tornare indietro Ok Adesso Andiamo ad attivare Di nuovo Usa Ecco Ok Adesso si è spostata Dobbiamo far cadere Questo Ma come lo faccio A far cadere Non ho capito Come far cadere Come faccio A farlo cadere Mmm Vediamo un po' Vediamo un po' Mmm Non ho idea Come faccio A far cadere Quello Qua non lo posso fare Se ritorno Nello stanzino Non si può aprire Questa porta No No Mi riporta indietro Riavvolgiamo Devo capire Cosa fare E questo L'abbiamo capito Forse Un'idea Ce l'ho Forse Un'idea Ce l'ho Vai Succede Quello Adesso C'è Samuel Qui Ecco E c'è Un bidoncino Il secchio Ma lo metti Ok Ha staccato Adesso Lui Appoggerà Il secchio Di pittura Lì E dovrebbe Ecco infatti Benissimo Stai lontano Da me Pazzoidi Aspetta Aspetta Andiamo a prendere Degli asciugamani Torniamo subito Datevi una mossa Prima che si asciughi Consoliamola Che facciamo La prendiamo in giro Il mio carattere Opterebbe più per la prima Però Proviamo a fare consola Dove era Ma ce ne sarà un altro Ok 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 Quindi Diciamo Quindi si sta Scusando Ok Ok Si è spostata Ok Sembra che stiamo Facendo amicizia Ok Entriamo Nel dormitorio E andiamo a dare Questa chiavetta USB Ancora non ho sentito Come lo chiama Qui c'è una lavagna Sbrigati Eccole Ciao Ecco l'asciugamano Allora Allarme Carta igienica Per pulirsi Ok Sappiamo Non sta Messa Non sta Messo Molto bene Stanza di Max Entra C'è 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 una chitarra Ok Casa dolce casa Ok C'è un post it Guarda Ehi bella Ho preso in prestito La chiavetta Per guardare Qualche film Mentre studio Mentre studia Guarda il film Se ti serve Mi trovi Nella mia stanza Va bene DVD Guarda Abbiamo un messaggio Da parte della mamma Di Max Andiamo a leggere Allora Buon compleanno Maxine 18 anni Incredibile Bibile Sembra Ieri Che ti ho Stretta Per la prima volta Fra le braccia Baci E questo Ce l'ha mandato Ieri Il 9 21 No Il 21 Ok No Ci ha scritto Questo Ciao tesoro Il tuo preside Mi ha scritto Un'email Dicendomi Che è preoccupata Per il tuo comportamento Che non ti sta integrando E ti nascondi Nel dormidorio Hai capito? So che è difficile Stare lontana Da casa Anche se Sei grande Ma sei lì Per cambiare Il mondo Con le tue immagini Per favore Chiamami appena Puoi Così parliamoci Ma anche i baci Mamma Mamma Dai per favore Guarda Annaffia Annaffiamo Hai sete? Sono una mammina cattiva Bevi Quindi dobbiamo fare un po' tutto Per capire Quest'azione avrà delle conseguenze Abbiamo fatto del bene a una pianta Guardiamo Va bene C'è un libro Ok C'è la chitarra Suoniamo Vai Suona una canzone bella Mi raccomando Vediamo Vediamo Alzati Possiamo anche alzarci Ok 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 Non male Però Per evitare copyright Lasciamo la chitarra Abbiamo fatto Il nostro dovere Abbiamo suonato Va bene Adesso C'è il letto Ci possiamo sdraiare C'è un cuscino Che possiamo guardare C'è un cassetto Che si può aprire Max e Chloe Best friends forever Who even says that anymore I'm going to call Chloe eventually And find out what she'll say The longer I wait The worse it'll be Idiot Ok Quindi questa era la sua migliore amica Ma non si sentono Da un po' di giorni Molto probabilmente Lei ha cambiato scuola Comunque è venuta in quest'università Ok C'è una musica Evitiamo il copyright Togliamo la musica Qui c'è una nota A Max e ai soggetti interessati I contenuti di questa chiavetta Sono di natura grafica Sconvolgente E controversa Questa raccolta è stata scaricata Con la massima cura E per il pubblico più esigente Mi congrrrttaulo Che cacchio Mi congrrrttaulo Mi congratulo Per il vostro gusto eccezionale E non vedo l'ora di ricevere Le vostre recensioni approfondite Su Cannibal Honklu E extra Ok Qualcuno Secondo me Sta dando di matto Perché con queste Questi filmati di Hannibal Cannibal Ammazzato quella Rachel C'è un cassetto Apriamo Ce la facciamo qui 18 anni Grazie a me Ho potuto coltivare questa passione Fino all'età adulta Sono fortunata Buon compleanno Maxine Mamma e papà Quindi una lettera di mamma e papà E una foto Vestiti Guarda Eh cambiati no No Questa è un'altra foto Non c'è più nulla Orsacchiotto Guarda Letto Sdraiati Quindi si può anche Riposare Ma comunque Non cambia nulla Può rimanere così Questo giorno è stato così strano E sembra non finire più Magari adesso mi sveglierò E scoprirò che è stato tutto un sogno O come diceva Po Sogno dentro un sogno Il sogno dentro un sogno Va bene Alzati Usciamo Allora Chi aveva preso la chiavetta? Ok C'è una ragazza che ha chiuso dentro Un'altra ragazza Juliette Juliette Chiamata anche Romeo Hey Juliette Is everything cool? Oh yes Max I've locked Dana in the room Because we're cool You are ridiculous Cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Ha mandato messaggini erotici al mio ragazzo Come l'hai scoperto? Che ti importa? Perché me lo chiedi? Non parli mai Sei sempre a disparte Con la tua fotocamera E' per questo che ti sto parlando adesso Come faccio di cognome? Non annesso Che ne so io come fai di cognome? Juliette Juliette Mason That was truly sad Thanks for your concern Max Caulfield By the way Juliette Watson Ah Watson Watson Possiamo tornare indietro? Quindi Watson Come Come il grande Watson Watson Elementare Saltiamo Juliette Watson Stai calma Quindi diciamo direttamente nome e cognome Prima Ok Ok Zac Efron Dana farebbe una cosa simile? Perché ha mandato messaggini Secondo Vittoria Dana Farebbe qualsiasi cosa per uscire Secondo Vittoria Oh Oh Hai visto il messaggino? E' Zachary Appena Dana ha confessato Sarà libera di andare Dritta all'inferno Giuro che non ho fatto nulla So che le prove Sono in camera sua Ehm Ok Quindi Se sono in camera sua Possiamo scoprire Se Ok Stanza di Vittoria Ok E' Vittoria Che gliel'ha detto Che possiamo scoprire tutto Usa Allora aspettate Vittoria La ragazza La ragazza Lecca fondoschiena di Di Francesco Del professor Jefferson Siamo su Facebook Amici 857 Iscritti 1126 Boom Sul cellulare di Zach Quella deficiente Ci ha creduto Quindi è sempre lei Fa sempre casini Fa sempre casini Quindi abbiamo scoperto Possiamo andarlo a dire Esci Vediamo se ce lo possiamo dire Vai Parliamo E come faccio Aspettate Come faccio Come faccio Gli porto il portatile Oppure facci una foto Vediamo Possiamo fare altro Portatile Ah ecco Stampa email Bene Sì ma I fatti tuoi no eh Chi si fa i fatti suoi Campa cent'anni Al paese mio Prendi Ok Quindi bisognava Solo stampare Ragazzi Andiamo a dare Il tutto A Giuliette Romeo Mamma mia Come fate brutto Ecco email Vai Giuliette Hai visto? Ok si scusa Credi davvero Che ci proverei Con Zachary No Ma quando sono gelosa Impazzisco Ti devo una cena Mi vuoi ancora bene E mi fai il bucato Grazie Max Sei la ninja Di Blackweel Ah ok Questa era Era la ragazza Che aveva preso in prestito La chiavetta Quindi ha detto Che è sulla scrivania Dov'è? Eccola Prendi Il mio tesoro Ok Va bene Abbiamo la nostra chiavetta USB 2.0 C'è un adesivo Possiamo parlare Mamma mia Mamma mia Mamma mia Questa ragazza Ok Qui ha Diciamo la foto Della classe Ragazzi Sapete cosa faccio? Visto che questa giornata È stata molto intensa Prima di continuare Le nostre ricerche Andiamo a riposare E ci vediamo Nella prossima puntata Ovvero Nella quarta Nel quarto episodio Quindi Sdraiamoci E io vi do un bacione Un abbraccione E ciao a tutti Da Pierre Dark Knight 91 Ciao a tutti